Vado a girare! Arriva! Ma questo è scena! Ma te sei deficiente! Ma quello è deficiente! Ma cos'è? Non lo avete pagato! Il portiere fa riguardo! Ma non è successo! Ti devi svegliare! Ma che cosa? Ho 8 anni! E' bene! E' un c***o! Non posso dirlo! E' un c***o! Ignorante! Grazie! Grazie!